Ciao ragazze! Oggi ci rappresenterà cosa mette dentro il suo portapastelli Siamo sempre nella mia account perchè in questo momento non ci può entrare Questo è il suo portapastelli L'ho occhiato, però ha molte cose, è molto pieno Allora ragazzi, per intanto io ho fatto la ricostruzione delle gomme Io ho 500.000 gomme Nel portapastelli Prima cosa Donna Quadrata Pena Cangellino Penna blu Della marca Va fermata Se non ci chiedete qui Non si vede Si si vede Poi penna blu E penna rossa Della Stendel Si E Penna blu E Cangellatore Poi Poi Un'altra gomma Un'altra gomma Un'altra gomma Una matita Una penna blu Una penna blu Un'altra penna blu Una penna blu Un'altra gomma A Poi è rosa e a ragione è una è un portamatite è una cosa giallocchi che mi è uscita nella matita molto carino poi gangettini segnalibili un altro segnalibro poi penne colorate ancora gangettini righello e basta ragazzi finito vi diamo un grande bacio ciao